qui abbiamo con noi l'azienda siat che è venuta a trovarci al transportec a fiera milano e vi va di raccontarci un po di quello che fa la vostra azienda noi ci occupiamo di trasporto nazionale internazionale in tutto ciò che concerne il trasporto c'è da trasporto a livello postale a livello di materiali materie prime lavoriamo con aziende e dirette e ci occupiamo di trasporti di trasporti in che zone di dove siete in che zone siamo di milano preciso vittuone e ci occupiamo di tutto il territorio zona torino no scusi nel piemonte la lombardia l'emilia il veneto e anche centro italia capita anche volte di occuparci del sud italia il mio collega si diverte a fare l'estero si è un'esperienza internazionale soprattutto anche la nuova funzione di trasporto anche da poco ha messo anche l'estero come obiettivo ogni tanto si utilizza per trovare un ritorno adeguato oppure un'andata perché abbiamo il nostro collega un commerciale che oggi non è potuto esserci che prende i viaggi dalla francia e noi ci dobbiamo andare in francia e transforbank ci aiuta in questo quindi per voi qual è la principale utilità che ha transforbank per un'azienda come la vostra diciamo che nel trasporto molte volte viene commissionato un trasporto che ti manda a destinazione b e a volte da destrazione b non riusciamo a trovare o non è nell'imminente disponibile un viaggio per il ritorno verso casa e quindi molte volte ci appoggiamo a transforbank per trovare delle soluzioni immediate cioè dei viaggi già pronti al momento o a disposizione di ore da poter utilizzare per far rientrare le nostre macchine verso la base o destinazioni che ci servono che sono più consone perfetto grazie mille per aver condiviso con noi la vostra esperienza con transforbank